Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo semplice tutorial vi spiego come vedere così quanti FPS fai su Fortnite, ovviamente puoi vederlo tramite il gioco oppure scaricarti una semplice applicazione per quelli che usano una scheda grafica Nvidia che si chiama Nvidia App. Ovviamente come puoi vedere in alto a destra ci sono le statistiche di Fortnite, tutte le statistiche di Fortnite, se premo direttamente il tasto Alt più Z esce così l'interfaccia di Nvidia e qua sotto dove c'è scritto statistiche le attivo e posso vedere tutti gli FPS, tutte le statistiche di ogni cosa sui giochi. Se non ti interessa questa interfaccia puoi semplicemente andare su impostazioni, video, scendi fino a giù fino a trovare mostra FPS, grafica avanzata, ovviamente sempre a ogni aggiornamento o a ogni verifica del gioco questo mostra FPS si metterà automaticamente su no. Quindi metti indicatore di latenza su sì, Nvidia Reflex bassa latenza, più boost, tutte le statistiche, attivato, attivato e fai applica e le troverai direttamente in partita proprio qua in questo punto o qua in alto a sinistra e basta, questo era. Quindi siete stato utilissimo su come vedere quanti FPS fai su Fortnite, iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao.